Per non trovare nessuno di Matteo Bellotto Chiedevo spesso a mia nonna perché andasse ad affrontare la cima della montagna tutti i giorni e la risposta era sempre la stessa, per non trovare nessuno. A me pareva assurdo sentirle dire quella frase, lei così sorridente, affettuosa, che ci stringeva e ci abbracciava schioccando baci potentissimi a noi bambini rintanati nelle smorfie. Era così diversa da tutti quanti, rideva continuamente, cantava tutte le mattine e se sentiva una melodia alla radio capace di catturarla, ballava anche da sola. Era così diversa dal friuli che mi circondava, così contratto, così ruvido, roccioso e montanaro, così incapace a volte di lasciarsi andare alla debolezza dell'amore, dell'affetto, così severo con se stesso e che sembrava incapace di incoraggiare noi bambini a sognare, come se avessimo dovuto liberarci dai desideri il più presto possibile. Era accaduto di tutto nella vita di mia nonna. Non aveva conosciuto il padre scomparso col tifo con lei neonata. Era cresciuta durante il regime con una madre e sei fratelli a combattere la fame, prima ancora dei nemici, insieme a qualche vacca da pascolare sulle malghe. Quattro di loro andarono a colmare la matassa di morte del conflitto, dispersi tra la Russia e la Jugoslavia, partiti e mai tornati, mai dimenticati, nelle lettere che mia nonna conservava gelosamente. Ci fu poi il terremoto del 76 a scuoterla, ma abituata a ballare, aveva riso alla morte anche quella volta. Amava mio nonno come fosse una divinità, così serio e diverso da lei, così divertito dai suoi eccessi. Spentosi lui, piano piano anche lei mise da parte il sorriso. Fino a quel giorno, tutti i giorni, andava ad affrontare la cima, in montagna, al mattino, prestissimo, prima ancora del sole a volte. Tornava a casa per entrare a prepararci la colazione. Ogni volta tornava turbata, malinconica, per poi recuperare tutta la sua energia durante il giorno. Un'energia che rinforza le schiene delle donne di questa terra, abituate a sopportare tutto, a trasportare pesi insostenibili per gli uomini, ad accudire la terra e le anime, con la consapevolezza di sapere da sempre di essere in secondo piano. Era un'abitudine irrazionale quella di camminare dentro a quei sentieri, come se stesse cercando qualcosa, o come se stesse nascondendo qualcosa. Ho sempre pensato che i nonni sono come le montagne, li vedi sempre lì, presenti e immensi, nella loro esperienza, e quando provi ad avvicinarti alla loro vetta, capisci quanta strada ci vuole per imparare a ridere, e quanta fatica è necessaria per avere la soddisfazione di guardare lontano, verso un orizzonte solo nostro. Un giorno, molto tempo dopo che lei aveva smesso con questa sua abitudine, le chiesi perché affrontasse tutte le mattine l'ascesa alla cima, perché tutta quella fatica, per tornare poi così turbata e stanca. Lei mi sorrise piano, e iniziò a dirmi questo. Da bambina, ogni volta che guardavo da lontano la montagna, le sue rocce, le sue forme, ci scorgevo sempre il volto di una persona. Avevo sempre l'impressione che qualcuno fosse intrappolato dentro a quegli ammassi di pietra, e che volesse uscire. Mia madre mi disse che le persone che vengono sepolte al cimitero, poi vanno ad abitare dentro le montagne, per starci vicino e per vederci dall'alto. Era una strana forma di paradiso quella immaginata da mia madre, ma mi colpì subito perché diede una risposta a me bambina. Da quel giorno mi sentì protetta dalla montagna, e quando morirono i miei fratelli, cominciai ad andarli a trovare dentro di essa ogni giorno, e con loro cercavo mio padre, che non avevo mai conosciuto. Anche se non li ho mai visti, nelle mie camminate quotidiane ho sempre avuto l'impressione di sentirli accanto a me, dentro la montagna, dentro la fatica, perché proprio quando mi sentivo sfinita, sentivo che loro mi spingevano ad andare avanti, a tenere duro, e assieme a loro tutte le anime contenute là dentro. Ho continuato a camminare tutti i giorni per trovare la forza di ridere. Poi è mancato tuo nonno. Non ci sono più andata lassù, perché ho paura di incontrarlo, e ho paura di essere sgridata per non avergli detto per l'ultima volta quanto lo amo. Non mi va di farmi sgridare da un morto. Concluse ridendo forte con le lacrime che inondavano le rughe scavate come vallate. Fu l'ultima volta che parlammo. Ora lei è seduta lì, ma non mi riconosce più, ormai impegnata dall'età a percorrere un diverso cammino verso l'ultima vetta. La montagna era il suo modo di mettersi in contatto con chiunque avesse amato profondamente e l'amore per la montagna credo corrisponda all'amore che cerchiamo tutti i giorni. Costa fatica a amare, perché richiede impegno e costanza per un sentimento che dalla spontaneità deve andare nel profondo a trovare il meglio di noi. le energie residue che invece di sopravvivere ci fanno vivere. La montagna ricordava mia nonna l'amore e la fatica di vivere, dove la soddisfazione più grande restava poter ridere poi tutto il giorno, con tutti. Andava in montagna per non trovare nessuno e ci trovava tutti, ma più di tutti trovava se stessa. La montagna è lo specchio che ci fa guardare la bellezza che dovremmo cercare tutti i giorni dentro di noi.